Dire che sono indignata è poco, indignata, amareggiata perché mi metto nell'animo dei familiari del povero Gianluca Congiusta, di Mario, suo papà, che da anni, da 13 anni, ha sempre combattuto per avere giustizia e trovo inammissibile che dopo le sentenze dei primi due gradi, attraverso le quali era stato individuato il responsabile, la Cassazione annulli queste sentenze addirittura senza rinvio all'appello. Mi dicevo che sono indignata perché mi metto nell'animo di questi familiari, insieme ai familiari di Gianluca Congiusta, associo anche i familiari di tutte le vittime di mafia, perché è inconcepibile che accanto al dolore che queste famiglie hanno per la perdita ingiusta del loro congiunto, non si riesca ad avere giustizia, ad avere associato a questo dolore la giustizia che è dovuta. Ci sono un sacco di familiari di vittime innocenti di mafia che dopo anni e anni non riescono ad avere giustizia, o non viene individuato il responsabile, oppure i processi che peraltro in Italia sono eccessivamente lunghi, soprattutto in questi casi io non ammetto la lunghezza di questi processi, probabilmente, forse senza probabilmente, il legislatore italiano emana delle leggi che danno facilmente accesso a dei capitoli, e quindi è facile per gli avvocati difensori individuare un qualsiasi cavillo per fare scagionare i colpevoli. Allora bisogna capire che quando un processo dopo le due fasi, appunto come il caso di Congiusta, viene completamente annullato, ribaltata la sentenza, la vittima innocente viene ulteriormente uccisa, perché è chiaro che viene ulteriormente uccisa. Allora qui credo che a questo punto si debba mettere una mano sulla coscienza del legislatore italiano. Io faccio appello al legislatore, quando dico il legislatore mi rivolgo a tutti i parlamentari italiani, anche a quelli che saranno poi i ministri della giustizia dell'interno di questa legislatura, perché si mettano una mano sulla coscienza e colmino i vuoti che ci sono nella legislazione italiana affinché queste vittime innocenti di mafia abbiano giustizia, perché senza giustizia non si va da nessuna parte. Tra l'altro non nascondo che sono anche arrabbiata perché, non so, saranno delle coincidenze, non posso pensare assolutamente che siano delle cose fatte di proposito, ma in questo periodo io sto assistendo a delle assoluzioni da parte della Cassazione, da parte delle corte d'appello di Catanzaro e anche di altre corti d'appello, che mi creano dei sospetti, mi lasciano veramente con l'amaro in bocca. Come faccio ad accettare che ad oggi non sia riconosciuta l'associazione mafiosa per le famiglie che è mancuso di Limbadi, in questi posti vengono scarcerati. La rabbia che ho, pensate che il giorno o uno o due giorni successivi alla bomba messa sotto la macchina a Limbadi, dove è morto il povero Vinci, nei due giorni successivi apprendo della soluzione di Antonio Mancuso, boss Antonio Mancuso, relativa ad un processo nel quale era stato implicato, un processo per fatti di dieci anni fa, era un villaggio, residenze di Parghelia, dopo dieci anni, a distanza di due giorni dalla bomba messa, che insomma, oltre alla vittima, è un fatto così eclatante, è chiaro che quello è un messaggio che hanno voluto dare per far vedere la loro potenzialità, per dire qui comandiamo noi, punto e basta. Allora, la magistratura che cosa fa? Pensate che anche, ancora, sempre in questi e di questi giorni di alcune sere fa, lo scagionamento per il voto di scambio dell'ex sindaco di San Luca, Giorgi, il quale era stato accusato, insieme a Santi Zappalà, di essere andato, perché è andato effettivamente, a casa del boss Pelle, per chiedere il consenso elettorale. Beh, sapete perché sono stati scagionati per il voto di scambio? Perché non è riconosciuta come indrina la cosca Pelle. Allora, io dico a questi magistrati inquirenti, i quali a mio avviso, con queste sentenze vanno ad inficiare anche il proficuo lavoro fatto dai magistrati che conducono determinate indagini anche da tutte le forze dell'ordine. Ma chiedo a questi magistrati inquirenti che emettono queste sentenze, c'è l'andrangheta in Calabria o non c'è? Questo va detto, perché sennò qui non si capisce più nulla, sennò qua va a finire, che diventiamo mafiosi noi che agiamo legalmente. Non è possibile. Leggo addirittura attraverso le parole dell'avvocato difensore della famiglia del povero Vinci di Limbadi che era stata chiesta l'associazione mafiosa per la famiglia Mancuso la cui proprietà è limitrofa, quella dei Vinci, nel mese di ottobre dell'anno scorso perché li avevano minacciati, picchiati e quant'altro, beh, non è stata data l'associazione mafiosa. Allora, cosa c'è che non... Lo Stato non è che non c'è, perché lo Stato poi in fondo siamo un po' tutti noi, non c'è la garanzia della punibilità, la certezza della pena per queste persone e non c'è la volontà di individuare in queste proprio il reato di mafia, l'associazione mafiosa. Allora, è chiaro che se queste persone non vengono individuati come boss, quindi come capi effettivamente delle edrine, delle loro cosche, che poi sono tutti sempre gli stessi nomi che circolano, è chiaro che si sentono sempre più nelle condizioni di spadroneggiare e chi osa dire alt, qui non puoi ledere un mio diritto, viene appunto addirittura ucciso. Allora, c'è qualcosa che non va, a mio avviso, nelle norme legislative. noi abbiamo il codice antimafia migliore rispetto agli altri paesi europei, però ci sono dei vuoti. Il garantismo è dettato dalla Costituzione italiana, quindi io non voglio assolutamente apparire la giustizialista in assoluto, ma il garantismo deve essere anche tale per le vittime, per le vittime, cioè non si può, non sono garantite le vittime, perché non hanno giustizia. Allora, in quei casi io proprio per determinati reati come gli omicidi di mafia, gli omicidi del terrorismo, di fronte a queste cose non dovrebbero esserci né benefici, né vuoti che possano dare adito a cavilli recuperati da parte dei difensori. ci deve essere qualcosa di maggiore attenzione. Ecco, credo che di fronte a queste cose che poi un'altra cosa che voglio dire mi dà anche fastidio vedere che la stampa nazionale e le televisioni nazionali questi casi li annunciano danno la notizia quel giorno e poi cadono nell'obbrio cadono nell'obbrio allora perché perché sono reati gravissimi abbiamo tantissime famiglie in cerca di verità e giustizia e quindi anche il legislatore italiano dovrebbe essere un po' pungolato se la notizia come quella per esempio sia del caso congiusta sia quella della bomba viene data a livello nazionale forse quella del caso congiusta non è stata nemmeno data a livello nazionale questo è un altro scandalo ma quello della bomba è stato dato a livello nazionale per un giorno dopodiché è scomparso è scomparso con tutto quello che c'è dietro che c'è dietro che non si vuole capire questi sono messaggi terribili sono le assoluzioni che lanciano intanto offendono la memoria di queste vittime innocenti ma nello stesso tempo lanciano un messaggio al comune cittadino che non è un messaggio piacevole perché il comune cittadino dice vabbè allora se questa è la giustizia io sto zitta se vedo qualcosa o se so qualcosa mi giro dall'altra parte e quindi faccio automaticamente il gioco di questi boss perché è questo che vogliono vogliono l'omertà vogliono incutere paura e nient'altro allora se non c'è lo Stato o Stato in termini di magistratura inquirente che sia più coraggiosa ho paura che veramente povera Calabria devo devo dare atto che il prefetto di Bari ha individuato insieme al presidente del parco della Spromonte Bombino hanno individuato un progetto insieme chiaramente al comitato per l'ordine e la sicurezza quindi questore colonnello dei carabinieri e della finanza hanno individuato un progetto che hanno già fatto partire per dire basta a questa altra grave segnale e comunque per 40 anni non è stato fatto nulla ed è anche questo grave perché questa presenza delle cosiddette vacche sacre sono indicative sempre di una volontà di alcune famiglie di indrangheta attraverso le quali vogliono dimostrare che comandano noi comandiamo vanno dove vogliono disturbano entrano creano incidenti non ce ne importa niente siamo noi che comandiamo a tutti i costi ripeto adesso finalmente è partito non è una soluzione che si può avere dall'oggi al domani perché sono tantissime dallo zomero alle cose c'è sentivo anche ieri sera ma anche questo è un fatto annoso la presenza l'imprenditore Cento a Cittanova ma c'è anche la presenza di queste vacche sacre nella zona ionica perché c'è anche l'imprenditore Bonfà che anche lui ha questi problemi e poi c'è chiaramente l'imprenditore coraggioso che denunzia ma c'è anche chi per paura continua a star zitta allora a quel punto perché non si interviene perché non si definisce una volta per tutta non si definiscono i responsabili e li si garantisce davvero alla giustizia quindi ecco credo che innanzitutto si debbano conoscere queste situazioni non devono essere sottovalutate e dopodiché vanno colmate le situazioni e anche intervenendo con le leggi adeguate io proprio oggi ho sottoscritto una proposta che è stata lanciata in aiuto al caso congiusta per consentire la ripresa dei processi anche quando dopo la sentenza definitiva qualora dovessero emergere delle novità delle notizie utili per la ripresa del processo perché se non c'è nemmeno questa possibilità magari a distanza di anni qualche collaboratore di giustizia parla però se la sentenza è diventata definitiva non c'è allora se si dà in questi casi la possibilità invece di fronte ripeto a delle prove nuove di riavviare il processo almeno ecco la sentenza di Cassazione non mette una pietra tombale sul caso e quindi insomma bisogna cercare anche di muoversi per essere di aiuto e per sollevare questi familiari vittime di mafia perché immagino il loro stato d'animo e soprattutto a mio avviso è necessario in questi particolari momenti non lasciarli da soli non possono aggiungere dolore a dolore e sentirsi assolutamente isolati perché poi l'altro dramma che di fatto uccide ed è prodotto dall'andrangheta è quello dell'isolamento l'andrangheta quando non riesce a uccidere fisicamente uccide con l'isolamento ti mette da parte fa in modo che si venga isolati e quindi lei parlava di autobombe parliamo di questi politici anche il sindaco con il Torino dove lei abita è stato vittimo di queste autobombe anche lui nel mese di settembre hanno fatto esplodere se uno dice che in Calabria non ci sono paesi di indrangheta sbaglia le cosche le indrine sono presenti ovunque in tutti i paesi certo la cosa che dà fastidio è quando io faccio questa affermazione che non è una affermazione che faccio perché mi piace farla io ci vivo quindi non è non è bello però quando uno fa questa affermazione viene guardato male perché dice tu con questa affermazione automaticamente dici che tutto il paese è mafioso non è così non è così perché fortunatamente la stragrande maggioranza delle persone sono le persone oneste però dire che non ci sono le indrine dire che non c'è l'andrangheta è assolutamente sbagliato perché significa mettere la testa sotto la cenere assolutamente c'è bisogna reagire occorre individuare aiutare le forze dell'ordine e le forze investigatrici ad individuare e a mettere quella parte assolutamente negativa della nostra società a metterla nell'obbrio farla cadere effettivamente nell'obbrio all'obbrio